È la prima volta che la facciamo. Precisi nella manipolazione. È la mia mano che state chiedendo? Ovviamente, sciocchina, è la tua mano che vuole, visto che parla nei tuoi piedi. Diciamo che non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia come la tua. Siamo una famiglia, ma non solo. Siamo una compagnia teatrale, all'antica, te lo concedo. Peter fa parte della compagnia! Io te lo faccio, ma non sono certo che lo indovinerai. Beh, allora fa bene. Ma dai! Cosa sei tu, papà? Principessa, non abbiate paura! Oh, ma io non ho paura! Ho perso l'entusiasmo, la fiducia, tutto. Lascio la compagnia. Cosler mi ha offerto una parte a teatro. Voglio tornare a dipingere. Dobbiamo modernizzarci, creare nuovi burattini, nuovi copioli. Lo facciamo da quando eravamo bambini, non sei stufa! Con tutto quello che papà e nonna hanno costruito è difficile finirla qui, non credi? Sono nervosa l'idea di rivederti. Su serio? Beh, sì. Le compro quei due quadrilla. Quelli non sono ancora terminati. Non! Ah! Ah!